Grave incidente sul lavoro, un operario di capistrello ferito sull'autostrada A25. Alvia la settimana marsicana, ad Avezzano, successo oltre ogni previsione. Eletto il garante dei detenuti, è Gianmarco Cifaldi, persona dal grande valore professionale. La Costituzione diventa un nomurale, trascritta da Ieli su una parete di 60 metri quadrati. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Iniziamo con la cronaca. È ricoverato in grave condizioni all'ospedale dell'Aquila, un operario di 53 anni di capistrello, investito dalla pompa di una betoniera sull'autostrada A25, durante i lavori di messa in sicurezza del viadotto che si trova nei pressi dell'uscita di Sulmona. L'uomo, da quanto si è preso, avrebbe riportato diversi traumi alla testa. I compagni di lavoro hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto è giunto un elicottero del 118 che lo ha prima trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona e poi al reparto di neurochirurgia dell'Aquila. Al momento non si conoscono le cause del grave incidente, ma sembra che il lavoratore fosse impegnato nell'operazione di getto del calcio estruzzo, quando rimasto coinvolto nell'infortunio. Avevano nascosto la droga nelle cialde della macchina del caffè, ma sono stati scoperti ed arrestati dai carabinieri. In manette sono finiti due giovani di nazionalità marocchina, Foud El Barni, 31 anni, ed Alla Macuri, 27 anni, entrambi rimasti coinvolti nell'operazione call-off e sottoposta ad obbligo di dimora a Luco De Marsi. I due arrestati sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Avezzano durante dei controlli e trovati con circa 50 grammi di droga. Inizialmente sono stati perquisiti e con loro avevano 2 grammi di cocaina. A quel punto è scattata una perquisizione domiciliare. All'interno dell'abitazione la droga era nascosta in luoghi impensabili. Dietro ad una vetrina della cucina sono stati trovati due involucri di cellophane, oltre ad altre dossi di cocaina. Mentre dentro alla macchina per il caffè a cialde c'erano 5 involucri con circa 3 grammi di cocaina. Altre dosi erano in una busta di plastica. Sono stati sequestrati 11 involucri, oltre ad un bilancino elettronico di precisione e la somma di 200 euro. Sulla provenienza dei soldi e della droga, i militari del nucleo operativo della compagnia di Avezzano, coordinati dal tenente Bruno Tarantini e di carabinieri della locale stazione, guidati dal comandante Loris Cavallaro, stanno indagando. Sulle bangonotte gli stranieri arrestati non hanno saputo dare giustificazione. Si presuppone che si tratti di provento di spaccio. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Elisabetta Lavanti. Eccezionale presenza di cittadini all'inaugurazione nel Parco Ex Arse di Avezzano della settimana marsicana, giunta alla diciottesima edizione, che resterà aperta fino a domenica prossima. Un successo annunciato e previsto, ma non nelle sue reali proporzioni. Ieri lunedì la giornata inaugurale della settimana marsicana nel Parco Ex Arse di Avezzano ha fatto registrare un vero trionfo ed un buon di presenze dal primo pomeriggio con la sfilata e l'inaugurazione, l'apertura degli stand enogastronomici, della mostra collettiva d'arte contemporanea e fotografica, fino agli stand di auto storiche, di vespe e piaggio, esposizioni cinofila, stand informativi e l'attesa esibizione della banda musicale della Polizia di Stato. Il tutto è intervallato dalla cerimonia di premiazione La Migliore Squadra dei Cento Anni della Avezzano Calcio, di cui riferiremo in un'edizione dei prossimi telegiornali. Ma andiamo con ordine. Nel primo pomeriggio, in Piazza Risorgimento, c'è stato il raduno per l'inizio del corteo inaugurale della diciottesima edizione della settimana marsicana, con la partecipazione delle associazioni sportive e del volontariato e della banda musicale Città d'Italia Cozzo. Alle 18 arrivo del corteo a Piazza Torlone e taglio del nastro di apertura della manifestazione con l'esecuzione del dinno nazionale da parte della banda Città d'Italia Cozzo. Al termine della cerimonia di inaugurazione abbiamo avvicinato il commissario prefettizio del Comune di Avezzano, Mauro Passerotti, il presidente della Prologue, Edoardo Tudico e il suo vice, Ilio Leonio. Onore e merita ai suoi predecessori, ma soprattutto a coloro che hanno organizzato questa iniziativa, questi giovani valontrosi della Prologue. Sì, visto che nonostante la diminuzione delle risorse a disposizione, abbiamo mantenuto questa manifestazione, perché questa è la manifestazione della città di Avezzano, ma di tutta la Marsica e raccoglie varie e diverse manifestazioni che incontrano il favore della città e della Marsica. Quindi questa qualitativamente è una delle manifestazioni per le quali necessitava mantenerle. Un momento particolarmente difficile per lei è stata l'approvazione del bilancio che poi ha determinato tutto il caos a livello politico. Sta a posto con la coscienza, immagino? Sì, ma indubbiamente posso dire che lo era anche prima, però si è fatto un approfondimento maggiore, una riflessione maggiore sulle risultanze del bilancio dei vari dirigenti, indirizzando l'attenzione alle società partecipate e soprattutto alla riscossione dei tributi, perché il bilancio, questa è una regola semplice e fondamentale, se ci sono le entrate ci possono essere le uscite e non viceversa. E quindi le entrate vanno salvaguardate e va visto come mai c'è un ritardo nella riscossione e cosa si può fare per migliorare la riscossione dei tributi della città. Sembra facile dire quello che entra e quello che esce? Sì, ma tutti i bilanci è così, anche in quello familiare, uno non è che può spendere di più di quello che ha e quindi questo è il principio fondamentale, quindi attenzione alla spesa, attenzione alle entrate. Per concludere, una sola battuta, per quanto riguarda la condivisione alle assemblee della parere che i problemi che devono essere affrontati devono essere condivisi? Sì, ho detto questo e lo ribadisco e lo confermo. La città ha bisogno di ascolto per eliminare i contrasti, del resto i problemi più importanti che abbiamo sono diversi, nel senso che anche sono, oltre che importanti, sono delicati. si possono risolvere con la concertazione di tutti, allora con la convergenza di tutti forse è più facile risolverli. Le auguro buon lavoro, ne ha bisogno. Grazie a lei, grazie per il lavoro che fa e mi consente di informare la cittadinanza. Dopo il parere positivo alla condivisione del commissario, insomma anche voi della Proloco, Ilio Leoni siete, come vicepresidente, a nome di tutti soddisfatti perché vedo che c'è tantissima gente. soddisfattissimi perché nonostante le gravi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare è andato tutto, tutto molto bene. Grazie anche alla presenza, all'impegno e alla vicinanza del commissario prefettizio che ci ha aiutato molto. Grazie alla gente che ha risposto in maniera assolutamente positiva. Io stavo per iniziare dicendo mi dichiaro, ci dichiariamo innocenti. Innocenti che significa non-nocenti, non nuociamo a nessuno, facciamo cose non per nuocere ma per piacere, quindi immagino che questo sia anche lo spirito con il quale la gente ci ha accolto in questa maniera. Presidente, sono una battuta anche per te, passato un po' il momento di tensione. Assolutamente sì, ma superato e la risposta trionfale è quella della partecipazione dell'agente. L'anno scorso 116 eventi, quest'anno 136 e i stand sono raddoppiati quindi significa che Avezzano e la Marsica ci segue e questo è lo scopo, l'obiettivo che ce l'ha parlato. Una marea di gente. Una marea di gente. Mi raccomando, sti giorni cercate di lavorare bene. Sempre. Buon lavoro. Non abbiamo pranzato oggi, da stamattina che siamo... Allora vi invita da cielo perché nemmeno io ho pranzato. Un panino, sì. Tantissime, come detto, le persone presenti alla giornata inaugurale che hanno affollato tutto il parco Ex Arsa dove c'è stato solo l'imbarazzo della scelta tra mostre, esposizioni, stand informativi. Nei restanti giorni, la settimana marsicana si conclude domenica 4 agosto, spazio ad incontri culturali, al convegno sull'alpinismo e da conferenze tra le tante segnaliamo per giovedì 1 agosto alle 17.30 la presentazione del libro Storie di sangue, amici e fantasmi del senatore della Repubblica onorevole Pietro Grasso con la presenza di una superstite dell'attentato al giudice Giovanni Falcone. Si tratta del sorintendente della Polizia di Stato Paolo Capuzza. In serata, come detto, l'atteso concerto della banda della Polizia di Stato è eseguiti con interesse ed applauditi da tantissimi spettatori presenti. Una notizia di grande attualità che sta facendo discutere. Una tempesta in un bicchiere d'acqua minerale. Non si può avere paura della storia. Citando Ennio Flaiano, il senatore di Forza Italia, Nazario Pagano, interviene sulla polemica innescata dall'interrogazione del deputato Camillo D'Alessandro, nella quale chiede l'intervento del ministro degli interni, Matteo Salvini, per la rimozione della scritta Dux sulla roccia della penna di Villa Santa Maria. Un'iscrizione realizzata nel 1940 che è stata ripulita di recente per iniziativa del sindaco Pino Finamore in un progetto di valorizzazione della zona e che costituisce comunque, la si pensi, un retaggio della nostra storia nazionale che va accettata, discussa e criticata per quello che è, ma non rimossa. A ditare quella scritta come fosse un pericoloso segnale visivo sovvertitore dei valori costituzionali e di esaltazione del ventennio, rivela una profonda miopia politica prima ancora che storica. La storia non può essere manipolata ideologicamente, è un gioco pericoloso e dà le conseguenze paradossali. Villa Santa Maria ha avuto un giusto tra le nazioni il podestà, ovvero il sindaco dell'epoca fascista Roberto Castracane che coraggiosamente protesse gli ebrei seguendo il più alto senso etico di cui serva la memoria come monito alle future generazioni che sulla roccia possono ora visivamente sopportarsi e rapportarsi a quel periodo proprio incrociando con lo sguardo la scritta Dux. Con un relativismo smarcatamente di partito come quello condotto da sinistra in quella inutile crociata a qualcuno potrebbe venire persino in mente conclude ironicamente Pagano di chiedere di abbattere il Colosseo perché quelle mura hanno visto trucidare decine di migliaia di persone nei giochi gladiatori e come simbolo delle persecuzioni dei cristiani gettati in pasto ai leoni. Nelle pieno rispetto dei tempi prestabiliti ho incontrato a Roma sia l'amministratore delegato di Talis Alenia Space Italia Donato Amoroso sia il direttore telecomunicazioni Giampiero Di Paolo che mi hanno confermato come attraverso la convenzione firmata proprio oggi è previsto l'avvio delle attività inerenti il progetto italgov.com in attesa della formalizzazione del piano multiregionale a dichiararlo è l'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo a margine dell'incontro avuto con i due responsabili l'azienda Talis spiega Febbo conferma le positive ricadute sul territorio e per le aziende abruzzesi che sono in coerenza con il montante degli investimenti regionali e ministeriali inoltre la società comunica di aver avviato la verifica dei curricula dei lavoratori ex Intex al fine di circoscrivere le professionalità dei ricercatori in linea con il progetto chiaramente adesso siamo a ridosso della pausa estiva ma gli incontri con la proprietà Forever 24 sono stati già fissati per la prima settimana di settembre con l'impegno di finalizzare e operare di zionare l'impegno delle risorse l'azienda stima di poter completare questo percorso entro il mese di settembre e su mia richiesta di comunicarlo nelle sedi opportune il neo eletto garante dei detenuti di Abruzzo Gianmarco Cifaldi questa mattina ha ufficialmente assunto l'incarico sottoscrivendo l'atto di insediamento davanti al presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri Cifaldi è stato eletto dall'assemblea regionale abruzzese nella seduta dello scorso 23 luglio con un riconoscimento unanime del suo valore professionale docente di sociologia penitenziaria e di educazione sociale all'università d'annunzio di Pescara il professor Cifaldi vanta una consistente attività di ricerca dedicata alle dinamiche detentive con una maturata conoscenza del sistema carcerario abruzzese la mia attenzione è prioritaria ha dichiarato il garante a margine dell'insediamento è rivolta al carcere di Sulmona struttura che visiterò il prossimo 3 agosto il dramma dei suicidi che ha interessato questo contesto è un fenomeno da esaminare con attenzione al fine di eliminare possibili cause di reiterazione ho già in calendario inoltre interventi ispettivi nelle strutture penitenziarie dell'Aquila e Chiedi dove intendo collaborare con tutti gli attori sociali che a vario titolo si interfacciano col mondo penitenziario altri temi al centro dell'azione del garante saranno l'effettività e l'attenzione al sistema sanitario all'interno del carcere da curare in particolar modo in quei contesti penitenziari che ospitano madri e figli il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha espresso soddisfazione per l'avvenuta designazione offrendo la massima disponibilità di tutte le strutture del consiglio a supporto dell'attività del garante si è chiaro ha sottolineato Sospiri che chi ha sbagliato deve scontare l'interezza della pena le istituzioni hanno il compito di garantire però che il detenuto sia trattato in maniera umana e possa avviare percorsi di recupero così come previsto dalla Costituzione il garante in questo senso sarà in prima linea per denunciare carenze del sistema carcerario e cercare soluzioni utili a migliorare le condizioni di vita di detenuti e personale per la prima volta in Italia e nella storia della Repubblica italiana la nostra Costituzione diventa un murale e viene trascritta per l'intero con tutti i suoi articoli su una parete di 60 metri quadrati situata dentro il parco giochi di Aielli intitolato ad Angelo Vassallo un luogo emblematico e fortemente evocativo la parte tecnica artistica è stata seguita da Angelo Mazzulli e realizzata con una stampante speciale della Woolprinter stampa sul muro di Novara per l'inaugurazione dell'opera artistica si è deciso di dare voce direttamente alla Costituzione 12 persone uomini e donne rappresentative in vario modo della nostra società leggeranno ad alta voce i principi fondamentali della Costituzione italiana l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Aielli in occasione del Borgo Universo 2019 allo scopo di divulgare i principi posti alla base della nostra carta libertà uguaglianza dignità umana rispetto verso il prossimo ed il bene pubblico fra gli ospiti Giovanni Legnini vicepresidente del consiglio superiore della magistratura dal 2014 al 2018 Anna Maria Fra Cassi dirigente scolastico del liceo classico Torlonia Mauro Febbo assessore per le attività produttive turismo e cultura e spettacolo della regione Abruzzo l'inaugurazione si terrà nel parco giochi Angelo Vassallo di Aielli nei pressi della Torre delle Stelle il giorno primo agosto alle ore 18 l'evento inaugurerà la terza edizione del Festival Borgo Universo manifestazione che è già diventata un cult fra gli appuntamenti estivi del centro Italia non solo sfide ma la città immersa nel passato da Medioevo e Rinascimento sarà una giostra europea rinnovata nella formula un anno zero dal quale ripartire rafforzare le sue specifiche peculiarità in una dimensione sempre più internazionale questa mattina nella sede dell'associazione giostra cavalleresca di Sulmona sono state presentate la diciannovesima giostra d'Europa e la tredicesima giostra dei borghi più belli d'Italia ad illustrare il presidente dell'associazione Maurizio Antonini il presidente onorario Domenico Taglieri e l'artista Marco Di Camillo leader del gruppo Rotat Temporis presente anche la sindaca di Sulmona Anna Maria Casini alla giostra sarà dedicato l'intero weekend da venerdì 2 agosto a domenica 4 agosto nella tre giorni la novità sarà rappresentata dalla grande fiera storica città di Sulmona per l'occasione l'associazione giostra Calaresca metterà in vendita un braccialetto al costo di 5 euro che darà la possibilità di soffrire di sconti negli esercizi commerciali aderenti agli stand del mercatino storico la cremesse sarà inaugurata venerdì 2 agosto alle ore 18 sul sagrato del palazzo dell'Annunziata dove Gianluca Foresi presenterà tutti i gruppi una quindicina che si esibiranno nelle giornate di fiera nella villa comunale sarà inoltre allestito un mercatino tradizionale di antichi vestieri e prodotti artigianali con una cinquantina di artisti ed artigiani ed espositori sabato sarà il giorno dedicato al corteo ed alle gare della giostra d'Europa in piazza Maggiore Sante Maria si prepara all'evento dell'estate nel mese di agosto tutti gli eventi in programma tra musica in piazza incontri culturali e tanto turismo verde animeranno l'agosto di Sante Maria il borgo marsicano divenuto celebre per il cammino dei briganti percorso immerso nella natura incontaminata dell'Abruzzo e capace di richiamare migliaia di turisti ogni anno si prepara a vivere un'estate coinvolgente e ricca di eventi per grandi e piccini abbiamo lavorato nell'ottica di accontentare i giusti e le esigenze di tutti dichiara il sindaco Lorenzo Berardinetti cercando di soddisfare i nostri cittadini ma anche i tanti visitatori che da noi transitano o villeggiano non posso che esprimere soddisfazione per un calendario artistico in cui la multidisciplinarietà dei linguaggi culturali è il suo punto di forza vi aspettiamo sotto il cielo stellato di sante marie resterete stupiti dell'ospitalità del nostro paese a tal punto da sentirvi a casa vostra conclude il primo cittadino l'ultimo appuntamento di luglio è previsto per è stato previsto per oggi infatti c'è stata l'escursione alla bellissima riserva della grotta di lupa mentre il primo evento del mese di agosto è fissato per giovedì 1 con lo spettacolo teatrale Folli in Corsa organizzato dalla compagnia teatrale teatranti tra tanti tradizione ma anche passione dedizione divertimento ed amicizia sono questi alcuni dei valori che contraddistinguono la festa del narciso che anno dopo anno l'ultima domenica di maggio inebria l'altopiano delle rocche dal profumo dei suoi narcisi questa festa rappresenta però un baluardo per la rocca di mezzo e non solo quindi quale migliore occasione se non il mese di agosto per continuare a valorizzare una perla della tradizione abruzzese il 2 agosto non si vivrà la versione estiva della festa del narciso perché i narcisi non me ne saranno ma si avrà modo di apprezzare la tradizione che c'è dietro la realizzazione dei carri il piacere di stare insieme la spensieratezza l'atmosfera e la magia di una festa che di notte diventa vera poesia un carro sfilerà in notturna a partire dall'ora 21 e 30 ma prima del suo arrivo saranno i costumi delle edizioni passate i protagonisti della serata si tratta di un vero e proprio corteo che richiamerà alla mente tutte le edizioni precedenti e mostrerà le scenografie rimaste integre con una finalità ben precisa ed innovativa dietro a questo tipo di festa c'è molto lavoro anche dal punto di vista strutturale teatrale e costumistico dichiara il presidente della prologo di Rocca di Mezzo Sandro Argentieri ci sembra importante dare la giusta evidenza a questi aspetti soprattutto nell'ottica di realizzare un piccolo museo che faccia apprezzare a tutti le numerose edizioni della festa del Narciso non solo tramite scatti fotografici ma anche con l'ausilio di reperti strutturali che hanno rimpito le strade del paese anno dopo anno l'appuntamento è per venerdì 2 agosto a partire dalle ore 21 e 30 ovviamente a Rocca di Mezzo entra in funzione la commissione speciale per l'attuazione e le modifiche allo statuto per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato che otterrà all'interno del consiglio regionale di Abruzzo il decreto che ne indica i componenti è stato firmato dal presidente del consiglio Lorenzo Sospiri e designa come commissari i seguenti consiglieri regionali Antonietta Laporta Umberto D'Annunzis Mariana Scoccia Guerino Testa Roberto Sant'Angelo Sara Marcozzi Amerigo Di Benedetto Silvio Paolucci l'istituzione della commissione speciale fa seguito alla volontà del consiglio regionale che nella seduta del 16 aprile scorso ha raccolto ed ha accolto la proposta di costituzione a firma del presidente Sospiri dei vicepresidenti Sant'Angelo e Pettinari e dei consiglieri segretari Bocchino e Pepe la commissione avrà il compito di revisionare le norme statutarie e le leggi regionali che derivano da esse e inoltre esaminerà la legge regionale per l'elezione del presidente della giunta e del consiglio regionale alla luce del mutato assetto politico a livello nazionale e regionale secondo le intenzioni dei proponenti inoltre i commissari dovranno avviare un percorso di approfondimento in merito alle potenzialità ed opportunità del regionalismo differenziato attraverso una specifica attività di studio e ricerca nonché attraverso un percorso di largo confronto con enti locali parti sociali associazioni e rappresentanti del mondo del lavoro e delle imprese il comando generale dell'arma dei carabinieri ha rinnovato anche per l'anno in corso la collaborazione con il dipartimento della protezione civile che promuove l'organizzazione di campi scuole estivi in favore dei ragazzi su tutto il territorio nazionale nell'ambito di questo progetto denominato anch'io sono la protezione civile in collaborazione con l'associazione territoriale volontari di protezione civile di Calsoli presso lo stabilimento comunale denominato Ex Mile di Calsoli si è svolto un incontro tra i ragazzi del campo scuola estivo ed i militari della locale stazione Carabinieri che per l'occasione sono stati coaduati dal nucleo cinofilo di Chieti nel corso della mattinata sono stati affrontati vari temi sulla sicurezza in genere con particolare riguardo al contrasto dell'uso di sostanze stupefacenti dopo una breve illustrazione sulle problematiche connesse alla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sulla classificazione delle varie sostanze stupefacenti nonché le caratteristiche e gli effetti di quelle di maggiore diffusione ne è seguita una dimostrazione pratica svolta dall'unità cinofila antidroga che ha simulato insieme ai colleghi della stazione un controllo finalizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti sia all'interno di locali chiusi che nel corso di un controllo alla circolazione stradale mostrando nel dettaglio il grande ausilio che può fornire l'intervento dei cani addestrati per questo tipo di ricerca all'incontro hanno preso parte anche il sindaco del comune di Carzoli Vene Nazaro e circa 30 studenti delle classi medie i quali hanno evidenziato il vivo interesse ponendo numerose domande prima dei saluti ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antena2tv.it o sulla nostra pagina facebook Antena 2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni grazie dell'attenzione ed appuntamento alla prossima edizione del telegiornale www.antena2tv.it 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 www.antena2tv.it